E benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Sono il vostro caro... no, sono TheClubiGC E oggi siamo qui tornati su Watch Dogs 2 E oggi siamo qui come avete visto dal titolo Alla Galilei e alla Noodle Quindi iniziamo però dalla Galilei Allora, intanto... Ciao Guarda questo Io lo spengo Tanto ripetiamo i soldi Allora Questa è la Galilei Lì c'è l'entrata Con lì fuori il parcheggio Vabbè, rientriamo Allora Intanto facciamo così E ne passiamo Saliamo Così vedete un po' come è fatta la Galilei Però qua Ci sarà una missione in cui si può interentrare No, 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 scappiamo Andiamo via Andiamo via Andiamo via Ragazzi andiamo via da qua Adesso vi farò vedere la Noodle va che è meglio Meglio andare alla Noodle Tanto vi faccio vedere pure mentre ci andiamo perché guardate cosa ho trovato Vai andiamo Andiamo radio E Vai andiamo alla Noodle Vai andiamo Andiamo che è meglio Che ho fatto scattare l'allarme per sbaglio Uh Inizia pure velocissima questa Uh Non tiene la strada sta macchinina Aspetta che Vabbè ormai Non so dov'è Ok Vai Saliamo per di qua Per di qua Vai 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 Via Eh mi scusi Mi sono passato proprio davanti Uh c'è una valigia Allora adesso Faccio vedere Siamo per di qua E qua Ok Entriamo Qua qua Come dice ci sono sempre i negozi Anche là c'erano i negozi Vabbè non contengo Cioè non c'è niente di bello Sono tutto solo queste t-shirt qua Bruttissime Aspettate un attimo eh Lascio vedere una cosa Guardate Che cosa bellissima Questa è proprio bellissima La cosa più bella Che potevano fare per me Qua no Non si può entrare Anche qua no Perché ho fatto una missione Qua la nudo Comunque dato sto facendo Un po' a qualche missione Qua e la Comunque allora Prendiamo tanto l'autobus Prendiamo l'autobus Della nudo Vai Entriamo Non so se io non video Vi ho già fatto vedere L'hacker e spazio Io non video Credo di sì L'hacker e spazio Quello che sembra una casa Sembra di sì Comunque Quando ci andiamo Che abbiamo pure 94.000 dollari Vediamo un po' Se c'è qualche Cosa buona Qualche pistola buona Da comprare Tanto è qua Attaccato Sogniamo Ok Andiamoci qua Ok Vai entriamo Vediamo un po' Alla stampante 3D Se c'è qualcosa Ok Entriamo Vai Andiamo Corriamo subito Alla stampante 3D Così Diretti Ok Vediamo un po' Qua Al posto della U100 Facile precisione Facile precisione Vabbè Ce l'ho Non lo so Cioè Il lancia granate Il lancia stordenti Facile qua Mi piacerebbe Forse Forse questo qua E' buono Andiamo un attimo Militari E' militari C'è questa qua Che è buona Non lo so Questo qua è bruttissimo Questo qua però non mi piace Questa non lo so Quanto può essere funzionale Voglio dire Prendere un attimo Questa Quindi ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Ciao Ciao Ciao